questo era un mio pezzo si chiama back to my life l'ho composto durante il periodo di lockdown un modo per fare della resilienza quindi un adattamento con il sorriso perché credo che comunque sia fondamentale in un periodo duro difficile come quello che abbiamo vissuto il mio presente è composto da tutte le mie più grandi passioni mio figlio alessandro la musica e lo sport nella mia musica c'è tutto il mio background e questo background si è formato grazie allo sport ho sempre temato per la voglia di divertirmi e non tanto pensando alla medaglia olimpica che poteva arrivare o non arrivare ma è stato importante il cammino lo sport mi ha insegnato a essere una persona migliore la difficoltà di dirigere tante persone tutti insieme quindi essere di fronte a un'orchestra è come quando sta in barca insieme ai tuoi compagni di canottaggio o quando cerchi di allenare un equipaggio quindi innanzitutto è riuscire a creare una sintonia mentale con tutte queste persone senza mai imporre nulla ma suggerire riuscire a convincervi che la tua scelta sarebbe stata anche la scelta che avrebbero operato loro adesso andiamo all'altra passione andiamo a remare della musica ho portato nel canottaggio il ritmo l'armonia perché il canottaggio è uno sport basato completamente sul ritmo gli inglesi usano una frase bellissima ti dicono ascolta la barca cantare ci vuole il giusto swing appunto il giusto ritmo e quindi la musica può aiutare moltissimo a diventare dei grandi canottieri a Grazie a tutti.